È un'esperienza veramente speciale, non me l'aspettavo e mi sento benissimo, non so che dire. Durante le qualificazioni, nella prima serie non ero molto sicura di me stessa, infatti il risultato non era un ganché, e le altre due serie ero molto più sicura di me. Nella semifinale non mi aspettavo neanche un ganché, ero tranquilla. Nella finale invece ero un po' più nervosa perché sapevo che cosa era in gioco, ma quando ho preso le misure sono andata davanti a quanta stanza sicura di me. Nel mese prossimo andrò a Cazzana a fare l'Universiadi e poi si vedrà. Ai miei amici e alla mia famiglia vorrei dire grazie a tutti del sostegno e ciao!